la sfida più grande per salvare l'umanità distribuire le risorse in modo equo cosa significa gioco a somma zero e perché penso ci stia uccidendo cerco di spiegarlo nel modo più semplice possibile due persone due mele nel gioco a somma zero entrambe le persone cercano di accapparrarsi entrambe le mele uno dei due le ottiene e vince l'altro resta senza e perde chi vince sempre comunque è la fame perché miete sempre e comunque almeno una vittima in questo modello di relazione c'è sempre chi vince c'è sempre chi perde questo è il modello che domina in praticamente ogni nostra attività nello sport se qualcuno vince qualcuno perde nel lavoro all'aumento dello stipendio di qualcuno corrisponde la diminuzione per un altro nello spettacolo nella fama nel potere nel successo in ogni possibile campo utilizziamo questo paradigma per misurare non solo le funzioni ma anche il valore stesso degli individui il nostro valore persino un semplice dialogo diventa una battaglia su chi ha ragione una gara chi blasta l'interlocutore lo umilia lo sconfigge misuriamo il nostro valore quello altrui con questo modello vincere equivale a vivere perdere equivale a morire esistono modelli di relazione diversi dal gioco a somma zero due persone due mele si dividono le mele una a testa vincono tutti perde sempre solo la fame le due persone sono entrambe felici hanno meno frustrazioni meno rabbia meno paura vivono entrambe meglio delle due che competono perché allora usiamo quasi in ogni occasione di interazione il modello a somma zero perché è così diffuso e così profondamente intrecciato con la nostra stessa psiche perché è il modello che ha accompagnato la nostra specie da quando esiste è il modello che regola il comportamento di quasi ogni forma di vita e natura animali e vegetali tendono a riprodursi fino a rendere scarse le risorse che li sostengono aria luce acqua cibo la competizione è il meccanismo di regolazione che sfoltisce il branco selezionando gli individui e le specie più efficienti nel procurarsi le risorse è un gioco a somma zero il coniglio divora tutta l'erba lo possum muore di fame la pianta a foglie larghe si accaparra tutta la luce solare la pianta a foglie piccole si estingue sì lo so esistono alcune specie che hanno adottato nella loro organizzazione sociale modelli diversi dal somma zero in particolare gli insetti e i risultati sono molto interessanti sia riguardo lo sviluppo sociale tecnologico sia riguardo al rapporto psicologico individuo gruppo ma non intendo approfondire qui questo aspetto perché ci porterebbe troppo lontano ma se il modello a somma zero il modello competitivo è stato il paradigma dominante per tutta la nostra evoluzione ed è il modello più comune in natura perché dunque per noi questo modello sarebbe superato perché piante animali non hanno sviluppato autocoscienza né tecnologie complesse noi sì e grazie ad esse siamo in grado da un lato di competere questi meccanismi e dunque dovremo poter limitare la nostra riproduzione dall'altro di moltiplicare e distribuire le risorse mantenendo le abbondanti innanzitutto togliamoci un problema dalla testa di mele ce ne sono fin troppe non c'è nessun bisogno di competere per averne ad oggi globalmente gettiamo via circa il 60 per cento del cibo che viene prodotto ogni giorno ogni mese ogni anno e gettiamo via coperte vestiti prodotti per la bellezza e prodotti per divertirsi perfettamente funzionanti esattamente come gettiamo via forni microonde autovetture computer condizionatori telefoni cellulari in perfetta efficienza teniamo vuoti decini di migliaia di appartamenti case ville castelli chalet le risorse non mancano affatto al contrario sono abbondanti ci appaiono scarse per il semplice motivo che non le distribuiamo usiamo il denaro che manteniamo scarso di proposito per impedire questa distribuzione di proposito fame freddo malattia ma persino scomodità e mancanza di divertimento non sono oggi dei problemi inevitabili sono una precisa e costante decisione potremo abolirle semplicemente distribuendo le risorse equamente l'unico motivo per cui non lo facciamo è la prigione mentale dentro cui continuiamo a vivere la prigione del paradigma competitivo quella che ci fa pensare che se vincono anche gli altri noi per forza stiamo perdendo quella che ci fa pensare che se lui mangia una mela qualcuno la sta pagando quella mela è il motivo per cui ci irritiamo quando veniamo sorpassati in macchina nella nostra mente scatta il timore che chi ci sorpassa arrivi prima di noi ci rubi il posto ci rubi il pranzo ci rubi la salute ci rubi l'amore a livello inconscio temiamo costantemente che qualcun altro vinca facendoci dunque perdere viviamo sessionati da questo costante modello di relazione che ogni aspetto della nostra cultura ci ripete costantemente in ogni ambito e contesto dalle dimensioni del cortile a quelle delle tette dal valore economico di un orologio alla firma di un tizio sulle mutande che indossiamo e così vivendo peggioriamo le nostre vite la volete una sfida davvero grande uscire dal modello competitivo educare le nuove generazioni a smettere di identificare il valore individuale in una gara contro gli altri bensì in una gara collaborare con gli altri in un dialogo cercare ciò che possiamo imparare dall'interlocutore invece che cercare soltanto di aver ragione professionalmente mirare a trovare le soluzioni migliori ai dilemmi che affrontiamo come singoli e come gruppi invece che tentare di affermare le nostre soluzioni contro quelle altrui queste sono le sfide che abbiamo davanti regolare la nostra riproduzione sul pianeta e dunque mantenere le risorse abbondanti come lo sono oggi e soprattutto distribuirle in modo equo per vincere tutti articolo di stefano re e dalla redazione di dolce vita è tutto per approfondimenti e aggiornamenti vi aspettiamo su www.dolcevitaonline.it www.dolcevitaonline.it Grazie 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 Grazie